Il Giovedì del Museo del 2014 Cibele, la madre di tutti gli dèi, la madre degli dèi immortali Il titolo della conferenza Sacri Misteri, Cibele, la madre di tutti gli dèi Conferenza di Anna Maria Volontè È la grande dea anatolica, una dea guaritrice che ha dato origine all'intero universo senza bisogno di intervento maschile, virgine inviolata e tuttavia madre degli dèi La grande dea anatolica si manifestava nella sua dura sostanza della roccia e si riteneva fosse caduta dal cielo sotto forma di una pietra nera Sul confine occidentale della Paflagonia, che è una regione a nord della Turchia, dove abitava il popolo ittita c'era una scogliera deserta che si chiamava Agdo e Cibele vi veniva dorata sotto forma di una pietra nera La leggenda narra che Zeus era innamorato di Cibele, ma invano tentava di unirsi alla dea e nell'angoscia di una notte d'incubo, mentre la sognava ardentemente il suo seme schizzò sulla pietra generando l'elmafrodito Agdistis Chi è Agdistis? Agdistis, il mito Questa è un'altra versione Una notte, durante un sogno agitato, Zeus fece un sogno, in cui giaceva con una donna Il suo seme arrivò fino alla terra generando Agdistis, un giovane Subito fu evirato da altri dei, diventando una donna Dal membro perduto nacque una pianta di mandorlo La pianta, quando crebbe, attirò l'attenzione di Sangaride, figlia del dio fluviale Sangario la quale prese una mandorla e la nascose nel suo corpo, rimanendo incinta Da questa gravidanza nacque Attis, un ragazzo di indubbia bellezza che fece innamorare diverse donne, fra cui l'ignara Agdistis Alla vigilia delle nozze di Attis con un'altra donna Alla vigilia delle nozze di Attis con un'altra donna Agdistis si presentò facendo impazzire il suo figlio che si evirò L'elmafrodito si disperò tanto che gli dei concessero al suo corpo l'incorruttibilità Su Agdistis ci sono anche dei parenti minori Secondo alcuni, Zeus voleva giacere con Cibele Ma lei non voleva Quindi Zeus cavalcò la terra nel tentativo di possederla Nel pieno delle forze, il dio eiaculò su di una pietra La quale fu fecondata e fu chiamata Agados Perché Cibele era raffigurata da una pietra di una scogliera La storia prosegue similmente alla precedente Con la differenza che questa volta non era una pianta di mandorlo Ma di melograno e che a raccogliere seme fosse nana Altri dicono che è sempre la stessa sangaride In questa versione del mito Attis era desiderato sia da Agdistis sia da Cibele La prima lo fece impazzire fino a farlo uccidere La seconda seppellì il suo corpo Dal sangue nacquero delle viole Mentre Agdistis ebbe in premio Che il corpo del defunto non solo non si corrompesse mai Ma anche che i suoi capelli continuassero a crescere Agdistis era malvagio e violento Con le sue continue prepotenze aveva già maltrattato tutti gli dèi Sicché Dioniso, giunto all'esasperazione, volle vendicarsi E architettò i suoi danni uno scherzo atroce Li portò in dono dell'ottimo vino E lo accompagnò a bere in cima a un grande albero di melograno Affinché Agdistis si addormentò briaco fradicio In bilico su un ramo Pian piano, con una cordicella Dioniso gli legò i genitali al ramo E, sceso a terra, scosse l'albero con tutta la sua forza Nel brusco risveglio il malcapitato Precipitò, strappandosi di netto il prezioso organo Così Agdistis morì dissanguato Mentre il suo sangue lavava il melograno E lo faceva rifiorire rigoglioso e stupendo E carico di succosi frutti magici La ninfa del Sangario Il Sangario, nella mitologia greca Era il nome di una divinità fluviale Che è collegata al corso dell'acqua del Sangarius Che è l'odierno Saccaria Quindi la ninfa del Sangario La ninfa del Sangario Nel fiume che scorreva nelle vicinanze Sfiorò con la sua pelle vellutata Uno di quei frutti E rimase incinta dal Dio Fu così generato Attis il Bello Il grande amore di Civele La signora delle fiere Suonava la lira in suo onore E lo teneva perennemente occupato In voluttuosi amplessi Chi è Attis? Attis è il paredro di Civele Quindi servitore eunuco Che guida il carro della Dea Il centro principale del suo curto Era Pessinunte nella Frigia Da cui attraverso la Lidia Passò approssimativamente Nel VII secolo a.C. Nelle colonie greche dell'Asia minore E successivamente poi arrivò nel continente Da cui fu esportato a Roma Nel 204 d.C. Secondo una tradizione frigia Attis è un demone bisessuale Agditis sarebbe nato Dallo sperma di Zeus Caduto sulla pietra Mentre il Dio cercava di accoppiarsi Con la grande madre Sul monte Agdos Gli dèi dell'Olimpo Spaventati dalla forza E dalla ferocia dell'essere Così lo evirarono Dalle gocce del sangue Fuoriuscito dalla ferita Nacque un albero di mandorlo O di melograno La figlia del fiume Sangarios Nana Colse un frutto dell'albero E rimase incinta Tempo dopo Nacque il figlio Che venne chiamato Attis In quanto fu allattato Da una capra Che nella lingua frigia Era Attagos Dopo essere stato cacciato Sulle montagne Per ordine di Saccaria Attis crebbe E fu mandato a Pessinunte Per sposare la figlia Del re Amida Durante la celebrazione Del matrimonio Agdistis Innamorato del giovane Fece impazzire Tutti gli invitati E lo stesso Attis Che si recise genitari Sotto un pino Dal suo sangue Nacquero le viole mammole Cibele Madre degli dèi Ottenne che il corpo Del giovane Rimanesse incorrotto Attis E il culto Nella Roma antica Già dal primo secolo Avanti Cristo Le vicende del giovane Erano ben note I romani Come dimostra La sua reinterpretazione Catuliana Del mito del Carmen In epoca imperiale Il ruolo di Attis La cui morte E risurrezione Simboleggiava Il ciclo vegetativo Della primavera Si accentuò gradualmente Dando al culto Una connotazione Misterica Ad Attis Erano dedicate Un ciclo di festività Che si tenevano Tra il 15 E il 28 Marzo Che celebravano La morte E la rinascita Del Dio Tra queste Vi erano Il sanguemen E l'ilaria Tracce di questi culti Che preso Il numero di Attideia Sono presenti Anche in colonie Greco-romane Ad esempio Quella di Egnazia In Puglia Dal suo mito L'imperatore Flavio Claudio Giuliano Inizierà a scrivere Uno dei suoi Famosi testi L'inno La madre Degli dei In cui Loda Cibele E indaga Sul significato Filosofico Di Attis E della Dea Il Dio Attis È associato Dagli studiosi A tutte le divinità Legate agli antichi riti Di propiziazione Della fecondità Della terra Che trovano Corrispondenza In Adone Ma Attis Era ingrato E irriconoscente Attis Voglia abbandonare Quelle gioie celesti E se ne fuggì Via Per vagare Sulla terra Alla ricerca Di un'altra donna Cibele Sapeva bene Che nessuna Infedeltà Avrebbe potuto Sfuggire Alla sua vista Onnipotente E trainata Dai leoni Lo sorvegliava Dall'alto Del suo carro Colse così Attis Mentre giaceva Spenseratamente Con una donna Terrena Convinto Che le fronde D'un alto pino Fossero sufficienti A nascondere Il suo tradimento Vistosi Scoperto Attis Fu asserato Salito Da un rimorso Tormentoso Implacabile Finché All'ombra Del pino Si avvirò Così Inventò La castrazione Divina L'immagine Dell'ape regina Che durante L'atto nuziale Effettua La castrazione Del fuco Incarna L'essenza Del mito Sucibele Presso E gli titi Cumarbi Stacca Con un morso I genitali Del dio Del cielo Anu E in inghiote Una parte Dello sperma E sputa Il resto Contro una Sroccia Ove Era la grande Era la grande madre Di tutti i viventi Protettrice Della fecondità Signora Degli animali Selvatici E della natura Selvaggia Attraversava 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 le foreste E montane Su un cocchio Tirato da leoni E accompagnata Dal corteo Orgiastico Dai Corribanti Chi sono i Corribanti? I Corribanti Erano i sacerdoti Di Cibele Che è una divinità Nata dall'unione Tra Gea E Urano Diverse e contrastanti Sono le tradizioni Legate alle loro origini Quelle dei Corribanti Ben sei sono le versioni E più probabili E accettate Sono i figli Di Apollo E Talia La musa Della commedia Sono nati Dall'unione Di Sauco E di Combe Una ninfa Figlia del fiume Asopo Una tradizione Sostiene Che erano i figli Di Crono Erano ritenuti Anche figli Di Elios E Atena Nacquero Dall'amore Di Zeus E di una musa Calliope Erano i figli Di Apollo E di Retia Una ninfa Dalla Samotracia Ecco Queste sono Sei certezze Onoravano La loro Dea Con danze sfrenate E orgiastiche Durante queste Numerosissime feste Spesso Si infliggevano Volontariamente Delle ferite Erano gli inventori Del tamburo A cornice Quello senza Fronte Creavano Musica Basata Sul ritmo Sessivo Per curare L'epilessia E per sconfingere La malinconia Di Zeus Inoltre Onoravano Onoravano Il pino In onore Di Attis Il figlio Della Dea Il culto Della Dea Cibele Aveva Come centro Principale Impessinunte In nasa minore Ed era In origine Di carattere Nettamente Orgiastico Con danze sfrenate Al sonno Di flauti Timpani E cembari Ed estasi Deliranti Durante le quali I Galli I suoi sacerdoti Servitori Si flagellavano E arrivavano Ad auto Evirarsi In seguito Il suo culto Passò in Grecia Especialmente A Creta Sotto il nome Di Rea Sotto l'influenza Greca Questo culto Perse molto Delle sue caratteristiche Barbariche Che riaffiorarono In epoca Poi ellenistica A Roma Ella fu venerata A partire Dal 205 A.C. Come simbolo Di fecondità I suoi sacerdoti Si chiamavano Galli Nella Galizia Corribanti Nella Frigia Datteli I dei Nella Troade E cureti A Creta In suo onore Furono incisi Svariati Fregi E solchi Su marmo Quale atto Per ridestare L'insita Sua presenza Santuari Imponenti Le venivano Dedicati E in posti Inaccessibili Ricavando Nelle pareti A picco A mille metri Sul mare Il suo misterioso Oculto Cotonio Era praticato Nelle fenditure Della montagna Entro nicchie E gallerie Talora L'apertura Era in un lontano Punto visibile Su un dirupo E su un dirupo Tal'altra Corrispondeva Al punto più alto Di un acropoli Era l'ingresso A tunnel Scavati Interamente Nella roccia Con gradinate Discendenti Nelle viscere Della montagna Ad andamento Elicoidale E senza Sbocco Eratica In trono Cibele Riceve Gli omaggi Delle processioni Che avanzano Al ritmo frenetico Di timpani Cembali Flauti E tamburi Porta sul capo Un ordamento Cilindrico Di solito A forma Turrita E coperta Da un velo E da un mantello Regge uno specchio Nella mano E sette volte Su dieci Possiede Una melagrana Come Demetra Impugna Le spighe D'orzo Come Demetra Impugna Le spighe D'orzo Che fornivano Una bevanda Allucinogena Il leone È il veicolo Di Cibele Ed immancabile Lo troviamo sempre Sui piedi Anche nei bassi Rilievi Della corrispondente Dea Itita La Kubaba Compare un leone Ai piedi del trono Ma non solo In Anatolia Nel 1200 A.C. L'iconografia Di una donna Nuda In equilibrio Sulla schiena Del leone Era presente In una vasta area Del bacino Meridionale Del Mediterraneo Che interessava Gli assiri In questo caso Era Ishtar Per i fenici Astarte E per gli egiziani Quadesh La criniera Del leone E le sue fauci Spalancate Sono l'embleme Del pube femminile Solo più tardi Quando le società Patriarcali Hanno sviluppato Concezioni Del pelo leonino E' stata Proiettata L'immagine Raggiata Della corona Solare Non deve stupirci La banalità Dell'attribuzione Sessuale L'idea Dell'antrogenitale Femminile E' insita Nel nome stesso Di Cibele Che significa Grotta Bisogna considerare Che in Cibele C'è la continuità Con le semplici Concezioni Religiose Dell'uomo Nel Neolitico E che in Anatolia Già Nel 6000 A.C. La grande idea Veniva rappresentata Seduta in trono Fra due leonesse Continuo con Cibele Cibele E' anche la Magna Mater Che è patrona Dei Memnadi Di Lidia E nel mito greco Fu assimilato A Rea E' associata A Demetra E' venerata Dovunque In genere Sotto l'appellativo Di grande madre O madre Di tutti gli dèi La Magna Mater Altri Non è che la Dea Cibele La grande divinità Della Frigia Il cui culto E' importato A Roma Nel 204 A.C. Durante le guerre Con Cartagine Quando il Senato Decise Di far pervenire Da Pessinunte La Pietra Nera Pietra Nera E' una pietra magica Perché è caduta Del cielo Che è il simbolo Della Dea E' di costruire Un tempio Sul Palatino Nelle intenzioni Del Senato Il culto Di Cibele Avrebbe forse Rinfrancato Il sentimento Religioso E il morale Della popolazione Che era stremata Della guerra L'adozione Del culto Di Cibele Sarebbe stata Suggerita Dagli auguri Che avevano Consultato I libri Sibillini E ne avevano Ricavato Un'allusione Alla Dea E all'opportunità Di introdurla In Roma Ma questo Per avvantaggiarsi Nella situazione Bellica Per questo Furono mandati Ambasciatori Al re Attalo Che consente Dietro Assicurazione Che alla Dea Sarà tributato Il culto Che le compete A Roma La pietra sacra Doveva essere Accolta Dall'uomo E dalla donna Migliore Tra i cittadini Per gli uomini Fu scelto Publio Scipione Nasica Lo streno Avversario Dei Gracchi Più confusa Nelle fonti Antiche L'entità Della donna Prescelta Per il delicato Incarico Insieme a Cibele Raggiungono a Roma Anche i suoi sacerdoti Detti Galli Il cui capo È L'Arcigallo Il culto Di Cibele Che è rappresentato Con la testa Coronato Da torri Accompagnata Da leoni O su un carro Trainato Da questi animali Sopravvive a lungo Nella storia Dell'impero romano Dal 4 aprile Iniziano le feste Dedicate Alla dea Cibele Magna Mater Avevano termine Il 10 aprile Nello stesso periodo Si svolgevano I ludi Megalenses L'11 Si celebrava La dedicato Del tempio Sul colle Del palatino Del palatino Lecce Lecce Dei Lecce Siamo Grazie a tutti.